adesso vediamo esattamente cosa vuol dire peronospera entrata nel sistema della pianta qui siamo di fronte a un ceppo che non ha la cascola o scudimento in dialetto eccetera ma proprio un attacco di peronospera se noterete bene ci sono delle coroncine bianche intorno qui nel raspo e ora vedremo l'effetto della peronospera come riconoscere dalla cascola se noi toccheremo quello si staccherà come si stacca nelle lucertole che catturiamo che catturavamo da bambini la coda guardate ora cosa avviene vedete la corona bianca alla base bene guardate cosa avviene ora toccando semplicemente quella parte del raspo avete visto si dissalda letteralmente questo è sinonimo che la peronospera guardate qui sopra avete visto è entrata nel si guardate in quest'altro punto bianco entrato nel sistema molti diranno che cascola invece è proprio una peronospera entrata nel sistema una particolarità il grappolo non presenta come ci dicono tutti i libri di testo una forma ad esse eppure è stato attaccato ugualmente su quest'altro grappolo sempre nello stesso ceppo inquadra quindi invece la forma leggermente ad esse è quasi evidente è quasi evidente è l'attacco di cascola c'è guardate più avanti dopo l'intervento comunque era amico vedete che il ceppo invece più avanti non presenta lo stella stessa lo stesso problema lì proprio era evidente è evidente l'attacco inutili che mi dicano casco scudimenti quelle proprio peronospera grappolare lì non si vedeva bene nel grappolo sotto si